Sì Presidente, veramente solo un minuto perché questo emendamento inserisce nell'elenco delle opere che non sono inserite in bilancio ma che comunque l'amministrazione ritiene prioritarie la realizzazione della fermata Giardino di Roma sulla linea Roma-Lido che è stato argomento di alcune commissioni urbanistica e bilancio proprio per dare soddisfazione a quella che è una richiesta che giace da tantissimo tempo in evasa e che noi invece riteniamo che debba essere realizzata nel più breve tempo possibile poiché il livello di progettazione di quest'opera non è in questo momento sufficiente per poterla inserire direttamente in bilancio riteniamo comunque di doverla inserire nell'elenco delle opere che pur non finanziate rappresentano programmazione per l'ente. Grazie